In occasione dell'imminente inizio degli esami di maturità, la Polizia di Stato ha realizzato un video con il contributo di alcuni dei maggiori atleti del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. Simone Barlam del nuoto paralimpico, Gregorio Paltrineri del nuoto, Giorgio Minisini del nuoto artistico, Giulia Ghiretti del nuoto paralimpico, Bebbe Vio della scherma paralimpica e Sofia Raffaelli della ritmica fanno gli auguri ai ragazzi che si apprestano a sostenere l'esame di maturità. Sono Simone Barlam e sono qui con questa sorta di lavagna dietro per augurarvi un grandissimo boccalupo per gli esami di maturità. È una delle prime sfide, delle tante sfide che la vita vi porrà davanti, ma sono sicuro che farete il nostro meglio per affrontarla, quindi forza e buona fortuna e mi raccomando studiate sempre che quello ci vuole sempre nella vita prima e dopo la scuola. Ciao a tutti i maturanti di quest'anno, si vede la luce nel fondo al tunnel e vi prometto che sarà una bellissima luce, quindi tenete duro e dagli tutti questi ultimi esami che vi apriranno le porte per la vostra nuova vita. Ciao ragazzi, la maturità si sta per avvicinare, vi faccio un super in bocca al lupo, è un passaggio cruciale della vostra carriera. Io ancora me lo ricordo oggi, i giorni della maturità sono stati molto intensi, anche un po' sofferti, ma poi li ricorderete con grandissimo piacere, quindi vi faccio in bocca al lupo e andate forti. Ho un po' da vecchi dirlo, ma sicuramente me lo ricorderete come un bellissimo momento della vostra vita e adesso impegnatevi, godetevi ogni momento, che poi ci saranno le vacanze. Nella ginnastica dobbiamo allenarci tante ore al giorno, perciò dobbiamo imparare a sfruttare il meglio e il poco tempo che abbiamo per studiare. Lo scorso anno ho fatto la maturità, appena tornata dagli europei, quindi non ho avuto tanto tempo per studiare, però mi sono preparata tutto l'anno per questa prova. Anche voi ragazzi quest'anno affronterete questa prova molto importante e sono sicura che se avete studiato tutto l'anno e credete in voi stessi, tutto andrà bene. Ciao a tutti gli studenti che siete in quinta e che state per abbandonare questo percorso perché state per essere maturandi! Niente, in bocca al lupo, in bocca al lupo, spaccate tutto, divertitevi, godetevi la maturità perché io me la sono da morire, me la ricordo benissimo e me la ricordo come una cosa bella, cromatica, però bellissima. Quindi niente, in bocca in bocca al lupo a tutti i maturandi, ciao!